Una giovane campionessa è scomparsa da qualche ora. Deve partecipare ad un'importante tappa della Coppa del Mondo ed è una delle favorite. Un allone di mistero si ceda dietro questa storia. Qualcuno può trarre vantaggio se lei non partecipasse o è successo altro. Scoprirete cosa sta accadendo e dove si trova la ragazza. Un segreto nascosto può cambiare le sorti della Coppa del Mondo. Il tempo per la vostra indagine passerà inesorabilmente e solo qualcuno di voi riuscirà a fare luce sull'accaduto. Ricostruite tutti i tassieri della vicenda e risolvete il mistero.